Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. Le prime pagine dei giornali sono tutte per lo più dedicate inevitabilmente alla questione del Covid, al balzo in avanti nuovo dei contagi quasi mille in più rispetto al giorno precedente, siamo a quota 5.372. Il governo è al lavoro per evitare un lockdown generale, è stato detto più volte, la stessa ministra Lamorgese ha detto non ne voglio sentire parlare ma delle misure dovranno necessariamente essere prese. Oggi c'è appunto un vertice per fare il punto della situazione, vedremo poi nel dettaglio di che cosa stiamo parlando. Un forte richiamo da parte di Mattarella che ha detto tenere aperto il paese è una responsabilità di tutti. Sui giornali di oggi però si parla anche di altri argomenti, naturalmente intanto l'ultimo incontro pubblico di Liliana Segre in un momento commovente come sempre quando riguarda i suoi racconti di vita vissuta in cui ha passato il testimone ai ragazzi e ha detto adesso tocca a voi andare avanti e proseguire. Si parla anche del caso Palamara perché è stata decisa la sua radiazione al termine del processo disciplinare e poi per quanto riguarda le questioni del Covid e gli esteri, gli Stati Uniti con Trump e il tentativo di Nancy Pelosi di metterlo all'angolo addirittura ha chiesto una commissione d'inchiesta sul suo stato di salute. Allora partiamo dal Corriere della Sera, vedete il titolo principale, timori per il balzo dei contagi. I nuovi positivi sono 5.372, questa volta il picco è in Lombardia. Mattarella che dice tenere aperto responsabilità di tutti, le regole anti Movida verso il divieto di sostare all'esterno dei locali pubblici e De Luca che dice se va avanti così chiudo la campagna. Vedete il Presidente e il Covid per quanto riguarda gli Stati Uniti con Pelosi che attacca. Trump è in grado di governare e questa richiesta di una commissione appunto di indagine sul suo stato di salute. A centropagina questa fotografia di Liliana Segre ci racconta di questo ultimo incontro pubblico, l'ultima conferenza pubblica sulla Shoah Segre, la memoria e i ragazzi, passo a voi il testimone. Di spalle il caso Palamara radiato ma il verdetto non chiude il caso, perde la toga e il suo commento. Il primo è stato pago per tutti, farò ricorso. Il Premier Nobel per la pace che è stato conferito al World Food Program, questa agenzia delle Nazioni Unite. Poi questioni che riguardano l'economia, nasce la borsa europea, c'è stata appunto la cessione a Euronext e all'interno della quale c'è anche Cassa Depositi e Prestiti, una parte. La Repubblica, eccola qui, i contagi fanno paura, un piano per fermarli. Peggiore la campagna e torna l'allarme in Lombardia. Il Governo vuole evitare un altro lockdown. E Mattarella, Italia Aperta, responsabilità di tutti. Pronti, stop alle feste, multe più severe e aiuti allo smart working. Ancora il Nobel per la pace a chi lotta contro la fame nel mondo. Liliana Segre, ultima lezione ai ragazzi. Tocca a voi ricordare il caso Palamara radiato dalla magistratura. Palamara paga, ora il CSM deciderà se punire gli altri appunto che sono stati coinvolti in questa vicenda. Per quanto riguarda le questioni politiche, addie sovranisti. Lega vicina allo strappo dalla destra europea. Andiamo a vedere l'apertura della stampa. Anche questa dedicata alla questione Covid. È il Governo che studia il coprifuoco alle 23. C'è un'intervista oggi al sottosegretario Zampa. Dice se serve chiuderemo i bar la sera. Guanti sugli autobus e De Luca che minaccia appunto il lockdown. Ancora il Nobel a chi aiuta gli affamati nel mondo. E le parole di Liliana Segre e gli Aguzzini non meritano il perdono. Apertura del messaggero. Anche qui regioni verso la chiusura. Il colle subito i fondi dell'Unione Europea. Contagi record vicini i lockdown locali. De Luca pensa a misure su Napoli. L'appello di Mattarella ci vuole responsabilità. E c'è l'allerta delle terapie intensive. Ancora c'è il punto sullo scontro a Strasburgo sui fondi. Se il recovery si allontana avanti con il MES. Poi ancora oggi ci sono diverse manifestazioni a Roma. Tra cui quella dei negazionisti. Un caso la partecipazione dei vigili dell'UGL. Il Viminale ai negazionisti oggi in piazza. Senza mascherine sciogliamo il corteo. Quindi le indicazioni sono quelle appunto di una linea dura. E soprattutto del rispetto delle regole. Ancora si parla di un'inchiesta sui vaccini pagati con prezzo gonfiato. La Procura indaga sulla Lombardia. Pirellone nel Mirino per i bandi falliti. Ancora si parla sul messaggero di oggi. Anche del super bonus al 110%. Anche per castelli e palazzi storici. Via Libera. Per gli immobili aperti al pubblico. Condomini. Basterà un terzo per l'ok ai lavori. Ancora decollo all'Italia. Nominato il CDA a nove. Firmato il decreto. Il nome della New Co. Che è stata appunto istituita. Vediamo anche l'apertura del Sole 24 Ore. Codidiano economico. Che punta tutto sui questi tre scenari. Per le chiusure. Che sarebbero appunto allo studio del governo. Governo e regioni preparano le diverse opzioni. In caso di boom dei contagi. Ieri 5.372. Nuovo caso su poco meno di 130.000 tamponi. Nuovi casi su 130.000 tamponi. E l'indice RT sopra l'1 in 13 regioni. Ancora ricerca, formazione e software. Ecco il piano Patuanelli per l'industria 4.0. E poi la borsa italiana che entra in Euronext. Nasce il colosso delle contrattazioni. Con cassa, depositi e prestiti. Socio del gruppo al 7,3%. E il presidente che sarà italiano. Bene. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Riprendiamo subito dopo con la lettura dei giornali. Bentornati in studio. Proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo all'apertura del fatto quotidiano che questa mattina titola Contagi fuori controllo. Sfondata quota 5.000. Ma l'Europa sta peggio di noi. Tracciamento KO. Impossibile risalire ai contatti. Maglia nera alla Lombardia. Poi la Campania pronte altre misure. La falla in alcune regioni positivi clandestini. Molti privati non avvertono l'ASL. Apertura del giornale dedicato al caso Palamara. Palamara affondato. Giustizia ancora a marcia. La toga è radiata dai suoi colleghi. Ma ormai si è alzato il sipario. È il capro espiatorio di un sistema malato. Andiamo a vedere anche l'apertura di Libera. Con la qui le due Italie. Industria a razzo. Commercio lumaca. La manifattura è più 34% in tre mesi. Si torna ai livelli del 2019. Negozi in panne. Clienti scarsi. Costi alti. E usurai alla porta. Il manifesto dedicato al Covid. Focolaio domestico. Si fa il punto della situazione con le cifre. Poi ancora in taglio alto alla segre. Io non ho perdonato. L'ultima testimonianza pubblica della senatrice a vita agli studenti. Il tempo che titola smascherato. Il primo ad infrangere l'obbligo di volto coperto. Anche senza assembramenti imposto. Assembramenti imposto da Conte. È Conte. Ecco tre sere fa cena in un noto ristorante. Qualcuno ligio alle regole c'è. Ma non è il capo del governo. Dice il tempo. La verità. I giudici cacciano Paramara. La sua colpa si è fatto beccare. E poi ancora Palazzo Chigi alza gli stipendi. Ai dirigenti. L'esecutivo esulta per i tagli. Ma varrà l'aumento ai suoi. L'UGL è trascurato il resto del comparto pubblico. Apertura dell'avvenire. Eccola qui. Testimoni di vita. In una giornata particolare. Tre notizie che parlano direttamente alla nostra esistenza. E poi ancora serve la responsabilità. Di tutti le parole di Mattarella per quanto riguarda la situazione del Covid. Allora andiamo a vedere subito le pagine interne dei quotidiani. Partiamo dalla stampa per cercare di capire che cosa ci aspetta. Potrebbe aspettarci nei prossimi giorni. Soprattutto da questo nuovo DPCM. L'epidemia accelera. Cinque regioni a rischio lockdown. Titola la stampa. Sono Lombardia, Piemonte, Campania, Sicilia e Basilicata. Oltre 5.300 contagi in 24 ore. Il governo anticipa il nuovo DPCM. Oggi ci sarà un vertice per fare il punto della situazione. E le ipotesi vanno da un quasi obbligo di smart working. Per limitare anche l'affollamento dei mezzi di trasporto. Allimita le presenze, le feste e i ricevimenti. Fino al divieto di asporto di alcolici dopo le 22. La chiusura anticipata dei locali misura questa. Che il Premier vorrebbe scongiurare. Arrivando anche a ipotizzare lockdown circoscritti a Napoli. Ad esempio si potrebbe profilare la chiusura di interi quartieri della città. Invasi dal virus. Ancora in taglio basso dalla stampa. Vi segnalo stop alle attività e più distanziate. Ecco le proposte degli scienziati. Chiusure dei locali. Mascherine in classe. Ci sono questi tre scenari. Spia verde, gialla, arancione e rossa. Misure ad hoc per ognuno degli scenari. A scuola potrebbe scattare l'uso della mascherina anche seduti al banco. Ricordiamo che sono al momento solo delle ipotesi. Di cui parla anche in questa intervista. La sottosegretaria alla salute Sandra Zampa. Coprifuoco per bare locali. Guanti sui mezzi pubblici. Necessaria una stretta. Ora un tavolo con i governatori. E appunto dice che su autobus, trame metropolitana si può abbassare il limite massimo della capienza al 50%. Non chiudere i confini regionali. pesanti economicamente e andrebbero valutati gli eventuali benefici. E poi questo è il tempo di essere attenti e rigorosi. Quello delle feste e degli stadi aperti appunto arriverà. E ancora in questa intervista dice appunto che si chiederà per certo di limitare la presenza a feste e matrimoni. E poi per quanto riguarda il coprifuoco alle 23 per i locali. Il costo, e gli viene chiesto, non è una misura con un effetto economicamente troppo pesante. E lei risponde che il costo della gestione di un'epidemia è molto più alto. Immagino si possa pensare a restrizioni orarie. Ne devo ancora parlare con il mio ministero. Ma se arriverà il coprifuoco alle 23 per i locali e i ristoranti. Sono certa che il governo l'accompagnerà a misure di sostegno per le attività interessate. E ancora, sempre dalla stampa, Napoli, le notti della Movida dimezzata, le serrate alle 23, ci condanna a morte la protesta dei ristoratori contro l'ordinanza che è già effettiva del presidente della Campania De Luca che sappiamo ha già attuato una stretta. Così si ammazza una categoria. Dobbiamo licenziare. Quest'ordinanza ci fa perdere 5 ore di lavoro al giorno. Dicono la gente esce di casa alle 10 di sera per stare insieme. È un disastro. Noi lavoriamo tanto con i contratti a tempo, ma così non assumiamo. E ancora dal 26 settembre è la prima città però per incremento di contagi. Stiamo parlando di Napoli. I clienti spiazzati queste regole fanno passare la voglia di uscire. E queste appunto sono le reazioni a Napoli. La situazione è difficile anche nel resto d'Europa. In particolare a Madrid, dove in città e in altri nuovi centri richiudono isolati 5 milioni di spagnoli. In Europa 100 mila nuovi casi. L'Unione Europea chiede regole comuni sugli spostamenti. Che cosa è successo? Che il governo a trazione socialista di Sanchez ha imposto lo stato di emergenza con effetto immediato alla comunità autonoma di Madrid nella speranza di contenere l'epidemia che ha messo in ginocchio la capitale. Ancora volevo farvi vedere sempre dalla stampa. Eccola qui. L'ultima lezione di Liliana Segre. E con le leggi razziali diventa invisibile. La senatrice a vita consegna ai giovani della Cittadella della Pace i suoi ricordi e la sua esperienza perché vengano conservati. Avevo 8 anni quando mio padre mi disse che in quanto ebrea non sarei più andata a scuola. Non ho mai perdonato i miei guzzini. Come non ho mai dimenticato. Il mio carnefice abbandonò la pistola. Fui tentata di usarla ma non lo feci. E da allora mi senti libera. Passiamo al Corriere della Sera. Per tornare a parlare delle questioni del Covid vi segnalo questa intervista al sottosegretario eccolo qui al viceministro Sileri che dice andrà come in tutta Europa ma se rispettiamo le regole controlleremo la situazione. Dovremo stare 7-8 mesi con il coltello tra i denti. E poi ancora il controllo nelle scuole deciso dal Lazio va esteso in tutta Italia. Può fare da sentinella. Si parla del problema delle lunghe file per realizzare i tamponi. Ne abbiamo visto insomma anche immagini nei telegiornali in questi giorni. Dico che bisogna allargare il campo diagnostico utilizzando tutti i tiri di test proprio per ridurre il sovraffollamento. I test salivari e quelli rapidi vanno usati per uno screening più ampio nei casi in cui non si sono verificati i contatti diretti con positivi e si hanno sintomi dubbi. Quindi appunto si cerca di migliorare la situazione anche da quel punto di vista. Volevo farvi vedere un attimo lo schema che propone ogni giorno il Corriere della Sera sulla situazione della diffusione del virus in Italia. Gli attualmente positivi al momento in Italia sono 70.110 e c'è appunto tutta la divisione in questa cartina regione per regione. E ancora in Lombardia c'è stata la situazione più critica nelle ultime 24 ore. Ieri 983 i positivi e ci sono i timori appunto per la città di Milano. Sono focolai soprattutto domestici ma questo è un problema che c'è a livello proprio nazionale. Vi volevo anche segnalare quello che succederà oggi a Roma dove ci sono diverse manifestazioni tra cui quella dei negazionisti. Gabriele, il capo della polizia e le piazze con i negazionisti stiano alle regole o interverremo? Partecipazione statica e rispetto delle norme sul Covid. Queste le indicazioni da parte appunto del capo della polizia. Ancora volevo segnalarvi dal Corriere della Sera non soltanto diciamo il monito di Mattarella ma anche il richiamo sui fondi a livello europeo. Mattarella dice si faccia presto e poi ancora c'è l'allarme dell'Istituto Superiore di Sanità in 15 regioni con l'RT sopra uno che preoccupa l'aumento dei casi di cui sfugge il tracciamento. Ancora ultimo articolo che vi volevo far vedere Trump negli Stati Uniti comizi da lunedì indagare sulla sua salute democratici che chiedono una commissione che verifichi le condizioni del Presidente. È tutto per la rassegna stampa di oggi e adesso vi lascio con Palo Sottocorona e le previsioni del tempo. Sì buongiorno per la prima parte della giornata di oggi potremmo dividere l'Italia in due guardate la metà meridionale metà del centro del sud addirittura senza nuvole nella parte settentrionale qualche nuvola c'è il grigio c'è anche qualche debole pioggia Alta Toscana Liguria di Levante poi parte del Veneto del Friuli Venezia Giulia ma piogge molto deboli quindi una leggera incertezza del tempo poi fra Piemonte e Lombardia c'è ancora qualche bella schiarita perché dico ancora? perché nella seconda parte della giornata si vede dove si va a parare perché su tutto il nord arrivano delle piogge deboli sul Piemonte e sulla parte orientale anche moderata forse fra Veneto e Friuli Venezia Giulia queste piccole macchie gialle ci lasciano la possibilità di qualche fenomeno anche intenso e poi piogge deboli che arrivano all'altezza appunto dell'Alta Toscana scendendo verso sud troviamo un po' di nuvole al centro e ancora poche nuvole al sud però questa tendenza ha un suo senso non è casuale perché nella giornata di domenica abbiamo maltempo forte che lascerà abbastanza rapidamente Piemonte e Val d'Aosta la zona proprio di nord ovest di estremo nord ovest però il resto del nord buona parte del centro i colori sono quelli collegati fino al giallo addirittura al rosso a precipitazioni particolarmente abbondanti e poi piogge anche moderate sul medio basso tirreno e qualche pioggia arriva anche al sud sicuramente più debole questo maltempo ha anche lui una sua linea perché una sua strada diciamo perché nella giornata di lunedì vedete che migliora decisamente sul nord ovest anche in Toscana restano piogge sul resto del nord piogge sulle zone del centro deboli o moderate e invece sicuramente più insistenti le piogge che interessano il sud in particolare sul versante tirrenico Campania Calabria Sicilia qui le piogge ci sono e sono anche di una certa consistenza possono essere anche forti diciamo non si possa dire allora le temperature minime di questa mattina leggerissime diminuzioni su alcune zone del nord stazionari al centro e al sud i valori avevamo detto anche ieri non sono particolarmente elevate sono leggermente sotto media ma ancora il freddo non c'è lo vedremo fra un attimo fra un attimo lo vedremo verso le 8 chiudiamo con lo stato dei mari in prevalenza tranquilli perché soltanto lo ionio è a largo può essere mosso così come localmente il Mar Ligure vedete proprio a nord della Corsica se no gli altri mari sono assolutamente tranquilli se volete prossimo appuntamento subito prima delle 7 e 55 prima di allora pubblicità è la prima edizione del nostro telegiornale aspettarti